Preparire la musica di Emilio Adesso in cui Emilio deve essere... Esattamente uno su uno E' quella roba lì Dopo la tempesta Ho trovato, questo La maggiore dopo tutta questa battaglia, lo so che è difficile, è molto difficile perché è scritto Fai qualcosa, non lo sei, ma deve essere diverso Please, please, please 4 before Emil, 4 before Emil, dai che ci siamo Che drammaturgia ragazzi, siamo forti, sembriamo